ciao amici bentornati su survival hacking canale youtube nato dall'omonimo podcast di cui troverete i link in descrizione oggi parleremo di un oggetto che tanti 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 anni fa l'avevo visto costava abbastanza era una cosa curiosa e simpatica ma poi insomma non l'ho mai presa aveva sempre rimasto il desiderio di questa cosa qua vedremo di che cosa si tratta subito dopo la sigla come di consueto ripeto sempre le stesse cose ma anche perché più o meno le sto leggendo per ricordarmi un po cosa devo dire e quindi vengono sempre più o meno allo stesso modo poche parole prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto cliccando sulla campanella che ci sta la in cima di condividere l'episodio e se vi è piaciuto mettere anche online per di che cosa parliamo oggi tanti anni fa credo negli anni 80 adesso sinceramente non ricordo quando era ma era veramente tanti tanto tanto tempo fa era il periodo dei giochi elettronici spopolava la mattel elettronix con tutti i suoi giochini a led eccetera eccetera a un certo punto è uscito un oggetto che non ricordo il nome non ricordo di chi fosse non ho cercato su internet non ho trovato nulla non ho cercato molto però sicuramente qualcuno di voi che si ricorda poi come si chiama magari mi dirà ci dirà qual è l'oggetto come si chiamava a suo tempo in sostanza era una sorta di bastone chiamiamolo così che aveva una serie di led verticale e con questi led agitandolo per effetto della persistenza sulla retina sembrava che venisse scritto qualcosa e in effetti si poteva un po scrivere quello che si voleva probabilmente o c'erano dei testi prestabiliti non ricordo come funzionasse fatto sta che era un oggetto che sembrava quasi incredibile all'epoca oggi è molto meno vuol dire lascia meno estasiati però all'epoca era curioso che tu prendevi mano sto robo lo agitavi e vedevi nell'aria una sorta di scritta ecco questo magico bastone che poi non ho mai più ritrovato né come oggetto già fatto inteso come giocattolo è poi poi dopo negli anni successivi e anche di recente si trovano un sacco di questi propeller clock li chiamano in tanti modi ci sono quelli attaccati a un motorino che girano e ci fanno vedere un sacco di immagini di cose fino ad arrivare delle robe veramente incredibili dove fanno vedere una barra con tantissimi led rgb che gira attraverso un motorino e fa vedere praticamente quasi immagini come se fosse uno schermo televisivo per cui molto molto definito e con anche possibilità di far vedere delle informazioni molto molto particolare giate nel nostro caso non vogliamo però spingerci fino a quel punto ma semplicemente vorremmo mostrare qualche tipo di testo o qualche piccolo effetto grafico e allora cosa ho trovato solito nostro classico posto cinese ho trovato questo bellissimo oggetto che è esattamente sulla falsa riga di quello che ho visto io a suo tempo tanti tanti anni fa quindi una sorta di bastone con dei led che ci consente di far vedere qualcosa e cominciamo a ad aprire questo oggetto per vedere un po di che cosa si tratta è arrivato il cellofanato dentro proprio al cellofan chiuso con dello scotch adesso andiamo ad aprire e lo spellicoliamo è proprio tipo domopack o chi per esso qui abbiamo un po di componenti qua abbiamo ancora dentro al domopack quindi con la trasparenza se non vogliamo fare marche dare nomi e cognomi i prodotti noi abbiamo il circuito stampato e poi abbiamo qualcos'altro qua dentro vediamo di che cosa si tratta ma credo che sia il contenitore solito contenitore in plexiglass da assemblare che serve per contenere poi tutto questo oggetto e dargli una la robustezza la solidità come di consueto già sto vedendo che non ci sono non c'è nessun tipo di istruzione per cui ci dovremmo può arrangiare ok allora se allora ci ho stampato un po di elementi plastici che poi approfondiremo e al momento li lasciamo lì da parte nonostante non ci siano istruzioni devo dire che circuito stampato è abbastanza parlante come potete vedere tutti i componenti sulla serigrafia hanno specificato il loro valore tutte le informazioni sono specificate direttamente sulla serigrafia e di conseguenza non dovrebbe avere nessun tipo di difficoltà nell'assemblaggio molto bene vediamo un po i componenti all'interno di questa confezione molto bene abbiamo un po di viteria che metteremo da parte che servirà dopo uno zoccolo e un microprocessore che servirà per far funzionare tutto l'oggetto due porta batterie due batterie un connettore connettore dei pulsanti po di led questo sensore di vibrazione perché serve proprio un sensore di vibrazione per poter fare questo effetto dopo vi spiegherò magari perché abbiamo tutta una serie di led che andiamo a mettere qua accumulati abbiamo due resistenze abbiamo un altro paio di resistenze scusate si sono un paio di dio di due condensatori un quarzo e cappuccio da mettere probabilmente su questo pulsantino per schiacciare no allora sarà questo qua dell'accensione esatto è il cappuccio del dell'interruttore di accensione bene allora io procederei ovviamente con l'assemblaggio dei componenti quelli che sicuramente sono i primi da mettere che sono quelli più bassi ovvero le resistenze e i condensatori scusate le resistenze e i diodi qui abbiamo due belle resistenze da 10k marrone nero arancio marrone 1 nero 0 e quindi 10 più arancione che vale 3 che sono tre zeri perché questa è la quantità di zeri e il moltiplicatore per cui 10 più tre zeri fa 10.000 e 10.000 ohm sono 10 kg e ovviamente li metteremo laddove c'è scritto 10k niente di più facile allora qua ci sono altre due resistenze dalla serigrafia vedo che devono essere da 1,5 k tutte e due noi ci fidiamo e non le controlliamo anche se già vedo che sono corrette perché vedo il verde che sta per 5 quindi vuol dire che sono da 1,5 dai mi fido mi voglio fidare non ci voglio di fare le verifiche tanto ci fossero 100 resistenze bisogna fare tutto controllo ma sono solo due e sono solo di quel valore non possono essere diverse vuol dire che potrebbero aver sbagliato inserire nella confezione ma dubito poi abbiamo due diodi tutte e due 1 n 4007 che sono questi in questa posizione c'è la tacchetta del catodo disegnata per cui non possiamo sbagliare la fascetta e dove c'è la fascetta anche sul diodo quindi impossibile sbagliare la polarità dei diodi in questo caso qui ce n'è un altro lo mettiamo qua e non siamo a posto bene passerei alla saldatura di questi primi componenti il nostro fedele saldatore compagno di mille avventure che sempre ci accompagnerà delle nostre le nostre composizioni manteniamo il profilo basso e cerchiamo di lavorare un po risparmiando anche perché per fare questo tipo di scatole di montaggio non sono necessari attrezzature professionali o o chissà quali strumenti quindi ce la caviamo veramente con poco e riusciamo a realizzare qualcosa anche a livello sperimentale giusto per capire se questo tipo di hobby può essere interessante per noi o no se lo stiamo scoprendo adesso per la prima volta bene abbiamo saldato le resistenze allora resistenze diodi saldati ora passiamo a dei componenti sempre molto bassi tipo lo zoccolo per esempio che è un componente molto molto basso e che fa montato in questa posizione niente di complicato di difficile come sto vedendo non tutti i piedini sono stati riportati per la saldatura alcuni neanche si saldano questi quattro per esempio sono stati riportati per la saldatura per esempio si saltano e ciccia questo perché il circuito stampato è molto molto stretto si vede che non c'era spazio per far saltare tutto allora hanno sacrificato o quantomeno evitato di saldare dei pin che non sarebbero comunque serviti quindi conseguenza non compromette ovviamente il funzionamento dell'oggetto quanto non sono utilizzati tutti i pin abbiamo saldato lo zoccolo e sempre per il risparmio di spazio come vedete alcuni componenti sono inseriti all'interno addirittura del dello zoccolo del circuito integrato tipo i due condensatori da 22 pico farad che sono gli unici due qua dentro e tutte e due sono da 22 e quindi anche questi senza neanche guardarli non sbagliamo comunque sopra c'è scritto 22 si vede quindi sono sicuramente giuste anche questi saldiamoli subito sono i soliti condensatori necessari a far funzionare il quarzo che è questo qua è un quarzo da 12 megahertz c'è anche scritto sulla scheda 12 m quindi è confermato è corretto quindi questo microprocessore funzionerà a 12 megahertz perché questo è il cristallo oscillatore che servirà per far oscillare questo microprocessore che andremo poi a infilare dentro alla fine abbiamo un condensatore elettrolitico che è un componente polarizzato come ricordate ha un piedino lungo e uno corto e se avesse i piedini uguali comunque qua di fianco vedete c'è questo segno che indica il negativo che è generalmente sul più più corto anzi è sempre sul più più corto qua sul circuito vedete c'è disegnato più per cui questo è positivo e questo è negativo in ogni caso negativo è quello tutto tratteggiato o evidenziato quindi si mette questo componente è un po' altina e darebbe fastidio allora si piega a 90 gradi e si lascia giù in questo modo consentirà l'inserimento del circuito integrato perché appunto come dicevamo prima per risparmiare spazio più che spazio non è che non ci fosse lo spazio è che la scheda è molto stretta allora i componenti li hanno infilati qua sotto bene allora cosa ci rimane? ci rimane per esempio l'impulsante che servirà per azionare l'effetto immagino non ha polarità, non ha niente, si infila esattamente nel suo posto questo è l'interruttore di accensione e anche lui lo infiliamo al suo posto allora questi vanno allineati bene comunque saldiamo qui di un solo terminale e verifichiamo che sia planare con il circuito stampato in modo che venga tutto bello dritto saldiamo bene quell'unico pin ci confermiamo e verifichiamo che tutto sia giusto ci confermiamo non vuol dire niente però piaceva saldiamo i restanti pin del pulsante e dell'interruttore isp sta per in circuit programming è il connettore per la programmazione di questo bell'oggetto e posso già intuire il motivo del perché c'è questo connettore non so se voi avete già compreso ma siccome lo vedo molti altri dispositivi di input come tastiere o altro per poter scrivere un po quello che si vuole sopra sto oggetto che rappresenterà delle informazioni che ancora non so bene quali grafiche o o testuali evidentemente lo si farà attraverso qualche altro sistema e poi va probabilmente riprogrammato il microprocessore una volta che verrà programmato per quello che si vuole far vedere lui mostrerà quelle informazioni credo che sia una roba del genere o questo è il la mollettina di fondamentalmente però diciamo che è un sensore di vibrazione a cosa serve questo sensore di vibrazione che poi verrà messo giusto appunto sulla punta di questo aggeggio serve per capire in che direzione stiamo andando e stiamo agitando il bastone serve per sincronizzare gli eventi in modo che nel momento in cui noi agitiamo da destra verso sinistra i led devono in qualche modo frullare in modo da mostrare un'immagine che se è nell'altro senso deve ovviamente essere modulate nel modo differente quindi questo identifica da che parte stiamo agitando questo bastone e se lo stiamo agitando dirà il processore dirà questi led di far vedere delle sequenze in un certo modo di questo in un altro modo che noi vediamo sempre la scritta nello stesso modo cioè riusciamo sempre a leggerla correttamente indipendentemente dal senso con quale noi ruoteremo questo bastone lo chiamo bastone perché è un oggetto che sembrerà un bastone una volta realizzato qui c'è un connettore a 90 gradi che va assemblato qua dove c'è scritto p30 p31 gnd vcc che secondo me sono gli stessi segnali dell'in circuit programming quindi è un altro modo per programmarlo un po più veloce con un connettorino a 4 pin dipende un po da che tipo di programmatore voi avete per programmare questi tipi di microprocessori se non avete nessun programmatore probabilmente ve lo tenete con il testo che vi viene offerto quando comprerete questo kit se invece avete un programmatore ci sarà modo poi di programmarlo per far mostrare il testo che voi vorrete abbiamo due portabatterie che vanno qua ovviamente dove c'è scritto cr23 bt1 e bt2 che abbiamo molti dubbi su dove possono andare questi questi componenti questo è un kit veramente molto molto semplice tutto è ben rappresentato tutto è chiaro e ci sono anche direi anche abbastanza pochi componenti quindi faremo a che fretta a realizzarlo probabilmente la parte più complessa come sempre quello dell'assemblaggio del contenitore che come sempre è una roba sempre laboriosissimo poi non ci sono le istruzioni che dovremmo un po accarraggiarci bene ora rimangono ovviamente tutti i led come ormai saprete i led quando è un anodo un catodo i led hanno un pin corto e un pin lungo il pin corto è il catodo il pin lungo è l'anodo il catodo internamente anche quello più cicciotto più grosso che generalmente si monta sul negativo mentre invece l'anodo è il positivo diciamo che dire positivo negativo sui led è sempre una convenzione un po sui diodi in generale sempre un po complicato perché a volte sugli schemi viene rappresentato il positivo sul catodo perché esce da lì positivo in altri casi lo mettono sull'anodo perché entra da lì positivo in realtà un diodo se viene utilizzato come protezione per l'inversione o vuole fare in modo che un certo flusso di tensione sia solo nella direzione abbiamo il positivo a due due le parti quindi un po casino anche in un led avremo la differenza di potenziale sì ai suoi capi però potrebbe essere che siano tutte e due positivi oppure insomma ci sono ci sono varie modalità diciamo che se diciamo anno del catodo però lo sbagliamo mai ecco quindi una volta che sappiamo che il più corto è il catodo oppure quello che internamente più cicciotto che così anche se avete i pin tutte e due alla stessa dimensione vedo nella stessa lunghezza quello più cicciotto dentro è il catodo qui è rappresentato con questo disegnetto triangolare l'anodo e questa barrettina qua davanti al catodo di conseguenza vanno montati in questo modo ovvero con il piedino lungo qua dove c'è scritto più in questo circuito specifico se sui diodi led in particolar modo i led è dove la gente fra più frequentemente fa gli errori di montaggio perché ognuno ha il modo suo di esprimere la polarità c'è chi da per scontato che tutti sanno tutto e quindi semplicemente scrivono un più da qualche parte e quello dovrebbe bastare in realtà non è mai così così precisa la cosa ecco attenzione che a un certo punto i led si invertono di polarità e vedete qui hanno tutti il più e a certo punto il più passa di qua quindi occhio che a un certo momento vanno votati invertiti ecco prima che cominciate a montarli cominciate a prendere la mano e rimontate tutti in un modo in realtà sono metà in una polarità metà in un'altra e voi direte ma perché non li hanno fatti tutti con la stessa polarità perché devono ostacolarci sempre a montare a farci buttare le cose e lavorano fatto perché questi led sono in parallelo e probabilmente questo agevola la realizzazione del circuito stampato che diversamente sarebbe diventato troppo complesso se li avessimo se li avessero messi tutti con la polarità corretta quindi a volte bisogna anche ottimizzare in qualche modo la posizione il posizionamento dei componenti per rendere possibile il routing del circuito stampato e quindi rendere facilmente fattibile il circuito senza diventare impazzire per chi fa i master in questo caso circuito è molto semplice ma in ogni caso evidentemente avrà avuto le sue difficoltà allora adesso comincio solo a saldare un pin molto velocemente senza badare troppo alla distanza la all'inclinazione dei led eccetera semplicemente perché voglio che stiano lì tutti fermi e poi dopo uno alla volta li sistemerò per cui adesso semplicemente metto lì un po di stagno e per tenerlo fermo senza badare troppo a nulla e difatti sono tutti storti uno su un altro ma è solo alla volta guardate tac saldo e lo tengo premuto saldo e lo tengo premuto saldo e lo tengo premuto e vedrete che alla fine di questo processo saranno tutti belli allineati e stabili sul circuito poi provvederò a saldare l'altro pin quindi avrò concluso montandoli tutti molto dritti e correttamente se sbagliamo la polarità di un led difficilmente si rompono ma facilmente ovviamente lo si accederanno quindi avremo il circuito che non funziona e dobbiamo andare a cercare capire perché e poi lo scopriamo perché abbiamo montato il led alla rovescia sarebbe bello poterlo scoprire subito perché se lo scoprite dopo aver saldato che ne so 50 led diventa un po fastidioso vedete che ora sono tutti ben dritti perfetti molto bene e ora andiamo a saldare ovviamente l'altro pin che non abbiamo considerato in modo da bloccare stabilizzare definitivamente questi led se necessario poi daremo una ritoccata alla saldatura precedente che magari non è perfetta ma in teoria dovrebbe andare molto bene ecco fatto sì non credo sia neanche necessario per ritoccare gli altri salditori ora tagliamo tutti i reoferi di questo led di questi led e possiamo quasi considerare completata l'opera quantomeno di assemblaggio dei componenti passeremo quindi all'inserimento del microprocessore al suo posto le batterie e potremmo già quasi cominciare a fare una prova vedere che cosa cosa fa sto aggeggio con la programmazione diciamo di default ecco fatto tutto bene allineato e ora posizioniamo questo componente quindi sono un po divaricati di raddrizziamo un attimo in modo che facilmente riusciamo a inserirlo dentro dello zoccolo il circuito integrato alla polarità come vedete qua c'è un piccolo segno bianco sulla serigrafia ma io ho montato anche lo zoccolo con questo simbolino qua che è uguale a quello che c'è qua sopra il circuito integrato in modo che questo è il pin numero uno qui c'è il suo segno di polarità e sappiamo che questo è il pin 1 questo componente a 40 piedini per cui poi c'è dal pin 1 al pin 20 qua il 21 e poi 40 ciò che non ci serve sapere queste informazioni se non dobbiamo fare dei debug quando facciamo dei debug che dobbiamo dare a misurare con lo filo scopio misura tot vai a vedere che cosa c'è sul piedino 26 e tu devi sapere quale pino 26 e generalmente una volta che prendi un po la mano con questi componenti sai che il 26 se questo è il 20 questo il 21 di 34 di 5 questo è p di 96 per esempio bene ragazzi inseriamo le batterie questo è il porta batterie lo accendiamo e accendendolo il led qua in cima fa questo gioco di luci se invece questo lo scrolliamo oddio non si capisce molto è piena qualcosa scritto oserei dire che sembra la scritta cinese io non so se voi riuscite a vederlo cosa vedete voi fate quello guardo io davanti va bene ragazzi io lo so cosa vedete voi ma c'è una scritta cinese credo che ci sta facendo vedere c'è un pulsantino cosa fa questo pulsantino al pulsantino apparentemente non fa un pifero servirà probabilmente per la programmazione o qualcosa del genere vabbè diciamo che rispetto a quello che mi aspettavo decisamente molto meno emozionante so che però si potrà riprogrammare per fargli vedere quello che si vuole e quindi magari cominci a diventare un po più interessante però adesso noi dobbiamo completare l'opera di assemblaggio di questo oggetto ovvero dobbiamo inserirlo nel suo contenitore così lo completiamo e poi vediamo che cosa si può fare se si può fare qualcosa di più simpatico o no allora come sempre per mettere appunto nel contenitore il nostro bello oggetto ci sono questi elementi plastici che hanno sopra una pellicola di protezione in questo caso marroncina che è sempre laborioso e veramente complesso rimuoverla ed è una cosa che ci fa perdere del tempo quindi lo faremo magicamente con un montaggio video quindi da così diventeranno così ok c'è chi la lascia quella pellicola per nascondere il contenuto dell'oggetto e invece a me piace toglierlo anche se è faticoso e ci vuole veramente un sacco di tempo così è trasparente e si vede quello che c'è dentro ed è interessante insomma è simpatico allora che cosa abbiamo qua abbiamo dei pezzi che sembrano tutti simmetrici bisogna capire un po' sicuramente questo è l'unico che ha la differenza che ha due forellini che ovviamente saranno quelli dove usciranno i i pulsantini dobbiamo anche installare i distanziatori esagonali prendiamo cacciavite ovviamente da quello che vedo i distanziatori vanno inseriti qua sono lunghe ste viti mi sembrano troppo lunghe per queste distanziatori comunque vedremo vedremo alla fine vedremo tra poco se effettivamente sono troppo lunghe e poi dopo bisognerà avvitare delle altre viti dall'altra parte ma sembrano un po lunghina vedremo ok poco questi distanziatori tocca qui e siamo a posto vedo dei pezzi che si dovrebbero incastrare in qualche modo qua lateralmente qui ce n'è un altro questo modo penso di sì e poi abbiamo questi abbiamo questo che è un fondo con il buco per il connettore e quindi come dire abbiamo molte alternative se non metterlo in questo modo e di fatti corrisponde proprio con la fessura qua e altre sì da questo lato abbiamo quest'altro che non può che andare così molto bene e per completare l'opera direi che questo va per forza messo così abbiamo da inserire le viti per avvitarsi al distanziatore e che poi tiene anche chiuso il tutto ma sono vero solo ed è che così lunga come sembrava e niente ora è chiuso in una scatola e si impugna con più sicurezza come vedete non è che cambia molto l'effetto è scatolato è trasparente abbiamo il connettore di programmazione qualche non è agibile perché bisogna aprire tutto oppure ci sono questi quattro pin attraverso un connettore si potrà programmare io so già come va programmato questo e dispongo di tutto quello che serve per programmarlo non lo faremo in questa sede perché è un'operazione che richiede un po' di tempo lo vedremo magari in un episodio successivo dove vedremo come riprogrammare questa barra per mostrare un po quello che ci pare attualmente mostra un simbolo giapponese scusate un simbolo cinese figuriamoci se è giapponese e quindi è un po limitato così come di natura lo vendono ma sicuramente si può fare di meglio e si può fare di più e si può fare qualcosa di più interessante attualmente diciamo è un po scarsino l'effetto che ci regala abbiamo capito come il meccanismo e come funziona questo oggetto io non so che questi video cosa si vedrà se si vedrà qualcosa io lo vedo con i miei occhi che si travede un simbolo cinese voi non vedrete quasi niente per il momento è un oggetto che fa ben poco se non questo led che fa un po di colori assortiti diciamo è un kit che purtroppo richiede ulteriori spese per poter andare avanti l'ulteriore spesa poi sarà un programmatore che in realtà è semplicemente un convertitore usb seriale che non ho qua sotto mano ma lo farò vedere il successivo episodio per cui per il momento dai ci accontentiamo di aver realizzato questo dispositivo che comunque contiene un microprocessore e vedremo magari un episodio dedicato appunto come fare la programmazione la configurazione la possibilità di far vedere un po quello che si vuole con questi led diciamo che l'oggetto assomiglia molto a quello che era all'epoca venduto come oggetto già fatto non so cosa mostrasse se era testo fisso si poteva qualche modo programmare qualcosa da scriverci sopra solo che questo ce lo costruiamo noi e ci divertiamo anche magari a programmarlo e a farci dentro qualcosa per mostrare dati e anche grafica magari perché un po ce lo personalizziamo come vogliamo e ci divertiamo magari anche un po a smanettare con il software in qualche modo bene amici per questo video è tutto come sempre ricordatevi di mettere un like e di condividere il video ed iscrivervi al canale attivando anche la campanella che ci sta lì sopra faremo un disegno di una campanella con questo anche magari bene continuate a seguirmi e ci vediamo al prossimo video ciao 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 con questo coso qui che in cinese vi sta scrivendo probabilmente una parolaccia vi sta mandando a quel paese voi non lo sapete lo sanno sulle cinesi che dicono guardate questi europei che fessi ci fa tirano a far vedere questo oggetto questo simbolo qua vuol dire mamma fa e noi lo facciamo vedere come se niente fosse ma voi capite che simbolo è si vede qualcosa non lo so va bene basta perché sembra proprio lo scemo eccomi con un piccolo aggiornamento su quello che era la mia intenzione di fare addirittura un secondo episodio per farvi vedere come si poteva modificare il testo o la grafica che rappresentava questo questo bastone magico e devo dire che ho fatto una scoperta un po elaborata nel senso che sono riuscito a modificare il testo le informazioni all'interno ma è stata veramente una una lotta dura e difficoltosa mi sono imbattuto in un sacco di siti cinesi di software tutti scritti in cinese di informazioni che ho dovuto tradurre diciamo che le informazioni sono veramente complicate da recuperare ho recuperato il file sorgente di quello che c'è scritto in questo microprocessore che è scritto in c è molto semplice lo legherò nelle note dell'episodio serve un compilatore che è della che il che i siti cinesi in qualche modo offrono come link per scaricarlo sebbene sia un software commerciale e che quindi andrebbe comperato quello che offrono loro in qualche modo è una versione forse base che consente comunque di compilare quello che serve per questo tipo di accessore che però è un microprocessore cinese di marca stc che va insomma il compilatore non prevede la compilazione di quello ma prevede la compilazione di un atmel che è molto molto simile a questo che è un 89 c52 c'è un 89 c52 della atmel che è praticamente identico è un clone questo che però non si può usare il codice binario prodotto dal compilatore per l'atmel per programmare questo ma va programmato appositamente e serve anche quindi un plugin delle librerie delle cose da installare per far funzionare quel compilatore in modo corretto che non è una cosa proprio semplice semplice ma non è sufficiente non è solo quello purtroppo anche per realizzare la grafica che va inserita qua vi faccio vedere per esempio a video qua tra l'altro serve windows perché è tutta roba per windows per un mac non c'è niente allora serve un programma che tutto in cinese dove non si capisce niente dove si inserisce l'elemento grafico o il testo e lui produce quello che è un include con tutti i dati da inserire poi nel software nel programma in c le immagini devono essere bitmap realizzate con paint con quello che volete monocromatico due colori poi lui lo importa e trasforma questo in dati da inserire come elementi di dati da infilare dentro quale programma in c il programma in c poi utilizza questi dati per fare andare l'oggetto va compilato una volta compilato va programmato con il tool della stc altro robot cinese che per programmare appunto questo dispositivo e non solo serve anche un convertitore usb risultore 2 da collegare su questi pin diciamo che quello che serve per fare una minima programmazione è piuttosto elaborato e complesso io pensavo di fare una sorta di tutorial ma alla fine sarebbe venuto veramente una cosa molto lunga e per quello che è lo scopo di questo oggetto mi sembrava troppo esagerato se fosse stato poi utilizzabile per qualcos'altro di utile magari poteva avere un senso ma tutto questo lavoro serve solo per poi programmare ciò sto qui devo dire che non c'ho voglia di fare questo lavoro che è troppo complesso tra l'altro è tutta roba cinese tutta roba scritta in cinese devo fare tutta la grafica che dice schiaccia quel bottone non schiacciare quell'altro che c'è quello con quei simboli strani è troppo complesso direi che non ne vale la pena diciamo che considerando l'interesse che potrebbe avere potreste avere voi su questo oggetto sono disposto a prepararvi io il file pre compilato con quello che volete però poi vi dovete comunque procurare il programmatore e di conseguenza non è una cosa proprio semplice poi durante le prove ho scoperto che i led inclusi dentro al kit sono quei famosi led che fanno tutti i giochi di luce automatici no vedete tipo questo qua questo non è pilotato dal microprocessore per i fatti suoi fa questo questo gioco di luce qui no e questi sono tutti i led che in qualche modo hanno dentro la circuiteria che gli fa fare tutti i colori rgb che sono belli per fare gli alberi di natale ma questo un po meno perché non sono tutti precisi uno con l'altro non è che quando gli alimenti si accendono tutti i rossi tutti i verdi tutti i blu si accendono a colori strani quindi questa barra che faceva l'effetto veniva tutto colori strani e non si riusciva a percepire bene quello che scriveva allora ho sostituito tutti i led con dei led monocolori e ho messo ho scelto il verde non è il colore più felice comunque diciamo li ho messi tutti i verdi vi consiglio anch'io se avete un po di led e comprate questo kit che tra l'altro ho visto che vendono anche con i led monocolore di mettere appunto di monocolore il kit soffre di un altro problemino ancora forse peggiore di tutti e difatti poi è uscito un nuovo kit di cui metterò il link più evoluto e che risolve tutti i problemi appunto sia dei led e sia delle batterie perché qua sono previste due batterie cr20 32 che con tutti sti led e questo microprocessore durano diciamo cinque minuti dieci minuti dopo dieci minuti sono già scariche e quindi queste batterie ogni dieci minuti vanno vanno sostituite non è che sia al massimo nel kit più evoluto che hanno fatto dopo hanno messo delle batterie stilo mini stilo ne hanno messe quattro e quindi la durata è maggiore hanno messo un microprocessore più piccolino e diciamo l'oggetto è molto simile però l'anno hanno fatto un upgrade tra virgolette quindi se doveste scegliere di fare questo oggetto questo deve costa veramente poco gli altri costano magari un po di più questo per una versione super economica che anche il contenitore in plexiglass ed è carruccio e va bene per fare un po di esperimenti così devo dire che mi aspettavo fosse un po più semplice appunto programmarlo io per esempio sono riuscito a inserire la scritta survival hacking runtime radio e il logo di runtime radio e che cicla in modo automatico il pulsante poi ho scoperto cosa serve pulsantino di accensione ok quello sopra serve per commutare il software previsto per dieci messaggi differenti tu schiacciando il bottone commuti tra uno dei dieci messaggi mentre se non schiacci il bottone il messaggio il primo quello di accensione è un messaggio continuo che cicla su tutti i messaggi in modo automatico una volta ogni due tre secondi appena poi schiacci il bottone invece lui si fissa su uno dei dieci messaggi questo è quello che serviva quindi adesso io non so se riuscirò a farvi vedere quello che viene scritto perché la persistenza dell'occhio è diversa dalla persistenza della telecamera qualora non ci si riuscisse adesso farò un video poi in modo che si riesca a capire vedere questa roba qua adesso vediamo che cosa succede c'è moltissima luce per cui difficile che si possa vedere qualcosa mi direi che spengo delle luci per vedere meglio questo e diamo col buio se si vede qualcosa di più chiaro più veloce andate più che più si vedrà meglio però bisogna anche fare un certo spam sto spaccando la mano va bene accendiamo le luci bene ragazzi direi che con questo con quest'ulteriore add on concludiamo davvero questo episodio e come dire posso dire di suggerirvi di costruire questo sebbene il suo posto è veramente quasi ridicolo però per fare un po di prove di sperimentazione può andare bene sicuramente più interessante fare magari quello la versione migliorata di questo ecco che almeno dovesse servirvi vi serve fa qualcosa di più insomma è meglio fare quello ecco io ve lo tengo è stato l'esperimento è stato interessante voi non vedrete niente immagino però fa niente io ve lo agito un po quindi che dire con questo nuovo add on concludo nuovamente il video direi che questo punto per questo video è tutto guardatevi di mettere un like di condividere e di iscrivervi al canale cliccando sulla campanella anche per ricevere le notifiche sui nuovi episodi contattate a seguirmi e al prossimo video ciao 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 ciao